Ma quali bamboccioni? Qua non ci sono giovani ciusi. La generazione di sdraiati, così l'ha definita qualcuno, è solo un luogo comune. I giovani hanno talenti e sogni da realizzare, hanno passioni capaci di infiammargli il cuore, sono alla ricerca di una via. In questo percorso verso l'autonomia la regione toscana riesce a dare il suo contributo fornendo nuove e preziose opportunità. Sono 278.000 giovani toscani che hanno fin qui usufruito delle misure di Giovani Sì. Tra loro c'è Salvatore. Lui, pianista e compositore, ha trasformato la sua attitudine alla musica in una professione. Ma c'è di più. Con quella professione si è fatto portatore di cultura. L'idea era appunto di creare un'accademia di musica, ma di creare un'accademia di musica un po' particolare rispetto al resto che possiamo trovare nel nostro territorio. E quindi abbiamo creato questa partnership con la Yamaha Music Foundation, creando la prima Yamaha Music School in Toscana. E la cosa positiva è che abbiamo da un anno e mezzo circa, abbiamo già superato i 150 allievi, abbiamo 15 docenti, due uffici amministrativi, appunto è un'accademia che continuerà a crescere e proprio in questi giorni stiamo pensando di aprire un'altra sede sempre in Versilia. Quella di Salvatore è una delle tante narrazioni condivise nella tredicesima tappa del tour Giovani Sì, la prima del 2019. Un percorso informativo che ha ripreso il via da Borgamozzano in provincia di Lucca, uno storytelling che proseguirà ancora e che, appuntamento dopo l'altro, porterà la condivisione di nuove esperienze. Avere la possibilità di invitare i giovani che hanno beneficiato delle nostre opportunità arricchisce la discussione, arricchisce anche la platea che ascolta, perché fa toccare con mano cosa può succedere quando si decide di cogliere una delle opportunità che la regione toscana attraverso Giovani Sì mette a disposizione. Quindi oggi ricominciamo da Borgamozzano, questo nuovo anno è il 2019, faremo altre tappe sul territorio, come sempre le scoprirete strada facendo, cercheremo di arrivare dove ancora non siamo arrivati, sempre con l'intento di far sì che chi ci ascolta possa comprendere sempre di più e sempre meglio come poter usufruire di certe opportunità, di certe azioni che la regione costruisce, ma soprattutto possa capire che nel proprio percorso di crescita e di autonomia la regione dà una mano. Non c'è solo la musica di Salvatore, ma anche l'esperienza nel settore cartario di Giacomo, un chimico che, a conclusione del tirocinio che lo ha fatto misurare con un complesso processo di riciclo, ora sta svolgendo un master proprio in tecnologia e gestione dell'industria cartaria. In Lucchesia c'è un problema che è il problema principale per quanto riguarda le cartiere, che è il problema degli scarti sia del pulper per le cartiere che fanno mascero, ma anche che utilizzano mascero come materia prima, sia anche per i fanghi di cartiera stessi, i prodotti da cartiere, cioè non sanno come fare a smaltirli. Questo progetto cercava di trovare una soluzione, è un progetto cofinanziato sia da comunità europea che da regione toscana che mirava a trovare una soluzione a questo problema e ho lavorato su questo progetto, progetto Lucchere si chiama. Intanto sto facendo questo master che penso di fare la tesi sullo smaltimento dei rifiuti delle cartiere, dato che me ne sono già occupato durante lo stage, è un tema che mi sta particolarmente a cuore e poi penso anche di continuare a specializzarmi nel settore sempre dei rifiuti come responsabile tecnico di impresa, gestione dei rifiuti. Dall'industria al servizio civile è il caso di Daniela, un'assistente sociale che grazie a questa esperienza è riuscita a realizzare il suo sogno e a trovare un lavoro. Io ho fortemente voluto scegliere un progetto che fosse proprio nel mio, cioè io avevo finito l'università e volevo fare un'esperienza nel mio e il servizio civile per me è stata diciamo la porta che mi ha aperta, era quella l'opportunità e da lì poi ho continuato perché poi dal 2015 fino adesso poi io sono sempre rimasta all'interno, ho fatto un servizio civile regionale, poi ho fatto quello nazionale e poi tramite cooperativa poi io sono sempre rimasta all'interno dell'ente locale. Prima sono stata presa come un amministrativo e poi da quest'anno proprio come assistente sociale tramite cooperativa però comunque nel mio ambito, via proprio per quello che io avevo studiato. Anna Maria ha svolto il servizio civile ma non si è fermata lì, la sua passione per le lingue l'ha portata a conseguire una laurea, quella per il turismo invece le ha permesso di compiere un percorso formativo di due anni, anche stavolta grazie a Giovani Sì. La mia esperienza formativa è nata un po' per caso accompagnando da una mia amica una di queste presentazioni di Giovani Sì e dei vari progetti e ho colto subito l'occasione di poter fare l'ITS OMA in hospitality management perché l'ho visto come un'opportunità che poteva mettere in pratica le mie conoscenze linguistiche che ho preso nella mia formazione di studi e che mi dava la possibilità anche di svolgere un lavoro a contatto con il pubblico che è quello che mi piace di più e che ho fatto anche sempre, per esempio nelle mie esperienze professionali e quindi l'ho vista proprio come un'opportunità di crescita e di entrare in un settore che mi ha sempre affascinato.